Buonasera, nuovo sopralluogo questa mattina ad Imperia nel palazzo coinvolto dall'esplosione della scorsa settimana. Presenti i vigili del fuoco che hanno liberato parte dell'alloggio del primo piano, riconsegnando vestiti ed oggetti personali alla proprietaria che quella fatidica notte fortunatamente non elencati, particolari in un servizio. Nuovo intervento questa mattina da parte dei vigili del fuoco d'Imperia nel palazzo di via del collegio, oggetto dell'attentato della scorsa settimana ai danni della sala scommessa e presente al pian terreno. I pompieri intervenuti con un'autoscala sono entrati all'interno dell'alloggio situato al primo piano che ha riportato gravi danni dall'esplosione. Parte dell'appartamento è infatti crollata finendo nel locale sottostante, solo per fortuna la donna che vi abita quella notte non era presente, altrimenti sarebbe stata coinvolta nel disastro. I vigili del fuoco oggi hanno lavorato per recuperare quanto possibile all'interno dell'alloggio, quindi gli effetti personali della donna che da quella fatidica notte è rimasta fuori casa e anche priva dei propri beni, tra cui abiti e oggetti di quotidiano utilizzo. Ovviamente l'abitazione dove oggi è tornata anche la polizia scientifica risulta ancora inagibile, mentre nei piani superiori i proprietari sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Intanto proseguono le indagini per far luce su questa inquietante vicenda e dopo la morte del secondo albanese il quadro è ancora più grave. In provincia di Imperia arriveranno altri 136 mila euro per il ripristino dei danni causati dal maltempo alle strade dell'entroterra. Questo nuovo finanziamento regionale sarà destinato in particolare ai lavori previsti a Pornazio e a Isola Buona. Vediamo. Quasi 800 mila euro di cofinanziamento sono stati stanziati dalla giunta regionale per le strade danneggiate in tutta la Liguria dalle passate alluvioni. Si tratta di interventi di ripristino per cui è previsto anche un cofinanziamento comunale di almeno il 20% del costo complessivo per un importo totale di 1 milione 260 mila euro. Gli interventi finanziati riguardano anche la provincia d'Imperia per un importo di 136 mila euro. Nell'Imperiese sono infatti previsti lavori di messa in sicurezza della strada Molinella-Carsonega-Ansa a Isola Buona e sulla strada Sant'Anna in frazione Ponti a Pornazio. Altri interventi sono poi previsti in provincia della Spezia per 309 mila euro, in provincia di Genova per un importo di 130 mila euro e nel Savonese per 287 mila euro. Con questo provvedimento, spiega l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, si prosegue il programma di impegni per far fronte ai danni causati dal maltempo alla viabilità. In questo caso si tratta del terzo piano di interventi che utilizza le risorse derivanti dalle accise sulla benzina e che si va ad aggiungere ad altri due piani relativi alle strade provinciali per cui abbiamo già stanziato 1 milione 650 mila euro. Il primo piano di interventi è stato approvato lo scorso 18 settembre e riguarda la città metropolitana di Genova e le province di Imperia e Savona per un ammontare di 1 milione 100 mila euro. Il secondo provvedimento è stato invece varato dalla giunta il 12 ottobre e riguardava la messa in sicurezza e la riapertura della strada della Ripa in provincia della Spezia grazie ad uno stanziamento di 530 mila euro. Il senso alto ieri sera è il primo degli appuntamenti organizzati dal GAC, il gruppo di azione costiera dedicati all'educazione alimentare presso le mense scolastiche. Presenti gli educatori, i gestori delle mense, i cuochi, i genitori, i destinatari finali, vorrà dire i ragazzi. Vediamo. Un progetto particolare importante legato alla cultura del mare, del benessere e della corretta alimentazione. Questo progetto molto importante che sviluppiamo come GAC. Noi vogliamo far capire al grande pubblico partendo proprio dalle scuole, dai primi potenziali consumatori, l'importanza delle specie del nostro mare perché ci siamo resi conto che spesso, escludendo le specie più note, quindi orate, branzini, l'altro pesce che viene consumato sono principalmente bastoncini. Noi vogliamo riportare nella cultura della famiglia quelle che sono le ricchezze del nostro patrimonio, sia in termini biologici, in termini nutrizionali e soprattutto di cultura. Veicolare questi messaggi e questi valori è proprio uno degli obiettivi del GAC. Esattamente, noi cerchiamo, non senza fatica, di veicolare questi messaggi. Abbiamo quindi coinvolto questa scuola proprio per poter arrivare direttamente alle mese scolastiche perché riteniamo che per un progetto di valorizzazione la messa scolastica, quindi la somministrazione ai bambini di prodotti che vengono dal nostro mare, qua prima c'erano i due pescatori che hanno fornito il loro pesce, possa essere un valore aggiunto al nostro progetto. Pesce locale, pescato qui nel nostro mare, potremmo dire non a chilometro zero ma a miglio zero. Anche meno di miglio zero perché stavamo parlando di naselli e di pesci lama per cui pesci che sono stati pescati proprio qua davanti nel mare sconosciuto perché tutti conosciamo il mare per quello che c'è sopra ma veramente pochi conoscono che cosa c'è sotto al mare. Qual è il messaggio che si vuole veicolare alle famiglie? Tramite questo progetto che ho sposato con grande entusiasmo si vuole veicolare il messaggio della bontà del pesce, bontà sotto tutti gli aspetti dal punto di vista organolettico cioè proprio quello che gli organi di senso ci permettono di decifrare, che ci regalano al punto di vista più interno cioè le qualità nutritive e di prevenzione ad alcune patologie che il pesce ci regala nella sua bontà integrale come cibo molto ricco e molto completo. Per esempio quali malattie possono essere prevenute? Ci sono studi che sono partiti dal caso degli Inuit, gli eschimesi che mangiano soltanto pesce e studi sulla base di popolazioni che si alimentavano soltanto di pesce hanno portato a registrare diminuzione delle malattie cardiovascolari quindi attacchi di cuore ma non soltanto artrite reumatoide, malattie della pelle, degli occhi, protezione di patologie della vista della generazione maculare senile e il pesce è ricco non soltanto di quei sali minerali di cui tutti conosciamo la presenza come lo iodio, il cloro, il fosforo. Parliamo di pesce locale e il nostro è un pesce sano? Assolutamente sì, il nostro pesce è un pesce azzurro quindi è un pesce semigrasso è un pesce che vive in acque pulitissime, solo guardiamo dove viviamo, abbiamo veramente questa grande fortuna non abbiamo inquinamenti da mercurio, i pesci che purtroppo sono stati incriminati che hanno forse fatto una cattiva nomea al pesce, vivono in altre zone del mondo nel nostro bacino del Mediterraneo il pesce è ancora molto sano e freschissimo è pesce che noi possiamo trovare sui nostri mercati locali quotidianamente E allora sentiamo, cosa avete preparato? Allora per oggi abbiamo preparato tre piatti, abbiamo cercato di abbinare il pesce del nostro Mar Ligure insieme agli aromi della macchia mediterranea, quindi tutte le spezie e poi abbiamo cercato di abbinare anche le verdure di stagione per dare anche un contorno insieme al secondo oggi abbiamo preparato una crema di carote, una crema di piselli e in più abbiamo preparato la verza cruda condita con olio e limone, quindi tre tipi di contorni e poi abbiamo preparato il pesce in tre tipi di cotture abbiamo fatto un flan di pesce lama di spatola, poi abbiamo fatto il lama alle erbe aromatiche un involtino di lama con sopra le erbe aromatiche, olio e erbe aromatiche sempre della macchia mediterranea e poi come terza abbiamo preparato tipo un bastoncino di pesce sempre di lama impanato quindi tre tipi di cotture che piacciono, abbiamo cercato di abbinare senza uovo, quindi non c'è uovo e abbiamo cercato di abbinare anche, siccome ci sono anche genitori per le mamme e per i bambini un tipo di, diciamo, tipi di piatti che piacciono anche in vista, come vista al bambino come si presenta il piatto, che il bambino possa poi mangiarlo, è invogliato a mangiarlo quindi piatti leggeri ma gustosi e molto buoni abbiamo già nelle nostre scuole automaticamente, speriamo che inseriscono anche questo tipo di pesce fresco così del nostro Mediterraneo, perché ha delle proteine, è un pesce diciamo sano con la speranza che bambini, perché pochi bambini, giusto noi facciamo, ce la mettiamo tutta per insistere bisogna educarli a mangiare il pesce bravo, educandolo a mangiare, sì magari nel vario modo che più piace ai bambini l'impanatura ad esempio è la cosa più che magari preferiscono che ne so, abbinarlo un po' con le patate che è una cosa che magari, sempre di pesce, lo dobbiamo rifilare dappertutto perché per constringerli è comunque buonissimo buono, senz'altro grazie Tania che ha parlato delle proteine perché effettivamente quando pensiamo alle proteine pensiamo alla carne, all'uovo, ai formaggi ma il pesce non ha nulla da invidiare alla carne l'importanza di incontri come questi perché insomma la scuola deve essere un veicolo di istruzione non solo su materie classiche ma anche su stili di vita corretti soprattutto, soprattutto credo che una delle mission più importanti e significative dell'istituzione scolastica che in particolare della scuola primaria debba proprio essere questa sensibilizzare i ragazzi verso stili di vita corretti sotto ogni aspetto l'aspetto della salute, l'aspetto dei cibi, l'aspetto delle condotte, l'aspetto dei comportamenti e credo che queste siano occasioni da non perdere per imparare sul campo che cosa significa portare avanti stili di vita adeguati e corretti per la propria salute i ragazzi e le famiglie come rispondono? credo positivamente fino ad adesso abbiamo avuto un ottimo riscontro ho ascoltato, ho sentito genitori che sono lieti e felici di essere coinvolti in questo tipo di iniziative quindi mi pare che insomma iniziamo con buoni auspici sono ragazzi che vivono in un luogo dove c'è un mare bellissimo quindi qui si parla di pesce è qui alle nostre spalle questi nostri pesci sono le nostre risorse più significative più importanti ci auguriamo che lo possano conoscere sempre meglio e sempre di più soprattutto quando mettono in tavola qualcosa quindi bando a tutte quelle merendine piene di OGM come si dice o di grassi, poli e strassatori e viva l'alimentazione mediterranea dopo i primi mesi di attività la società San Ramon composta da commercianti e albergatori della città dei fiori sta lavorando su un progetto ambizioso si tratta della creazione di una rete di imprese tra Toscana, Liguria e Costa Azzurra ponendosi come sbocco a mare dell'Europa ce ne ha parlato il presidente di San Ramon Romeo Giacon e il consulente web Moreno Cicchiello vediamo Romeo Giacon, so che per il futuro nei progetti di San Ramon ci sono idee molto ambiziose e particolari è così, di cosa si tratta? è quella di partecipare a una rete delle reti di impresa che partendo dalla Maremma seguendo poi diciamo verso diciamo Ovest e quindi la Forte dei Marmi con la Versilia la parte diciamo delle Cinque Terre a Lassio, San Remo la Sardegna, la Corsica e la Costa Azzurra mettersi tutti in rete in una super rete diciamo per andare incontro anche alle direttive dell'Unione Europea che vuole valorizzare appunto questa parte del sud-ovest costiera dell'Europa e per rilanciarla in tutto il mondo partecipando magari anche a bandi europei? partecipando sicuramente a bandi europei avendo tutte diciamo le caratteristiche in regola per poterlo fare in tutto questo ovviamente è molto importante l'aspetto rivolto al web assolutamente sì San Ramon in questo momento ha un portale dedicato che racchiude tutte le aziende un microsite dedicato ad ogni azienda la parte eventi sempre aggiornata sulla città servizi per il turista pagine social e ovviamente tutto quello che è lo sviluppo successivo che è a divenire sulla parte di pubblicità e marketing online Di questo e di altro parleremo domani sera nella nuova puntata di A Tutto Ponente in onda alle ore 21 E fra i tanti progetti che l'associazione culturale Matteo Bolla organizza torna Ciac un'emozione video festival giovani il concorso internazionale di cortometraggi è diventato ormai l'evento più importante dell'anno l'appuntamento è per domenica 15 novembre al teatro del Casinò con ingresso gratuito dalle 16 e 30 per la tesissima finale prevista anche la presentazione del libro Il nostro viaggio racconto dei primi 8 anni di attività dell'associazione culturale Matteo Bolla Vediamo Mancano pochi giorni alla finale del video festival dedicato proprio ai giovani è così? È così Sì Siamo alla parte finale di questo lungo e laborioso diciamo percorso che è iniziato praticamente a febbraio abbiamo cominciato a febbraio a mettere online questo concorso siamo arrivati alla sesta edizione e siamo alla parte finale perché quest'anno sono arrivati veramente tantissimi cortometraggi da tutte le parti del mondo abbiamo raggiunto oltre mille corti mille lavori che sono arrivati a noi abbiamo un po' di novità quest'anno la preselezione si è svolta quest'anno a Villa Broselli in due giornate abbiamo coinvolto il tavolo giovani di Sanremo e altri ragazzi che hanno giudicato i cortometraggi di amatoriali amatoriali e novità di quest'anno abbiamo inserito la sezione animazione e quindi loro hanno scelto questi cortometraggi di animazione da portare in finale c'è ancora un'altra novità si allora un'altra bella novità è che il premio che assegnerà l'associazione culturale Matteo Bolle è stato realizzato da un artista dell'Accademia delle Belle Arti di Sanremo in legno d'ulivo ed è veramente un bellissimo pezzo come ogni anno anche per questa edizione assegneremo quattro premi uno che assegnerà la giuria popolare cioè noi diamo la possibilità a tutti i presenti in sala di poter esprimere il proprio giudizio una giuria tecnica una giuria critica e quindi ci sarà poi la giuria popolare ci sarà un altro premio che però sarà una sorpresa e adesso non vorrei non vorrei svelare ecco diciamo che tutta la cittadinanza può intervenire quindi l'appuntamento dov'è? allora l'appuntamento è al teatro del casino di Sanremo alle 16.30 domenica 15 novembre con ingresso assolutamente gratuito per passare un pomeriggio bello in compagnia e soprattutto con la visione di questi cortometraggi che sono arrivati in finale quest'anno ne abbiamo 16 che sono veramente dei lavori straordinari realizzati da questi giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni sul tema delle emozioni i lavoratori del comparto dell'edilizia hanno nuovamente manifestato in consiglio regionale per ottenere dalla giunta il rispetto degli impegni presi in particolare la convocazione urgente del tavolo di confronto con le imprese per favorire l'utilizzo di mano d'opera locale una situazione che ha portato il partito democratico a lanciare nuove accuse alla giunta regionale per la perdita di tempo a danno di lavoratori di quel comparto che vivono un momento particolarmente difficile domani mattina a Genova nella piazzana attistante il termine al traghetti è previsto un presidio degli allevatori di Coldiretti Liguria la manifestazione si inserisce nel quadro della mobilitazione nazionale per la difesa dell'atto italiano e per tutelare i lavoratori del settore schiacciati dalle multinazionali con prezzi di acquisto inferiori ai costi di produzione divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area di Pian di Pomo a partire da oggi fino a domenica 24 gennaio 2016 per l'installazione del tradizionale Luna Park l'area sarà sgombrata da veicoli in sosta per consentire il posizionamento delle attrezzature del parco e divertimenti le disposizioni dell'ordinanza saranno rese note al pubblico attraverso segnali stradali mobili in considerazione della temporaneità del provvedimento nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico e si è conclusa ieri l'assemblea programmatica dell'Italia dei Valori d'Imperia presenti il segretario provinciale Maurizio Ferrara il segretario regionale Paolo Carbonaro dall'incontro è emersa la volontà di riunire i partiti del centro-sinistra in cui l'Italia dei Valori si riconosce come membro attivo tra i progetti su cui insistere anche l'inserimento del voto di gradimento di metà mandato e l'obbligo delle liste pulite da sottoporre in via preventiva alla direzione investigativa antimafia territoriale competente ed è stato sottoscritto a Savona il primo documento in Italia che definisce la regolamentazione dell'attività croceristica tra una città portuale ed una compagnia armatoriale sul fronte mare costa crociere si impegna ad applicare le norme necessarie a ridurre l'impatto ambientale provocato dalla sosta delle navi in porto da parte loro comuni autoriti si impegnano sul fronte terrestre a migliorare l'attraversamento cittadino del croceristico l'apertura di un park dedicato nella zona degli svincoli autostradali da dove partiranno dei bus navetta diretti al pala crociere bene facciamo una breve pausa ci sentiamo subito dopo la casa di geppe il libro del giornalista Daniele Lacorte sarà protagonista domenica a Cuneo alle 15 verso la sala rossa della sede della provincia ad un incontro speciale all'interno della rassegna nazionale scrittori in città si tratta di una cornice di eccezione la manifestazione vanta infatti il nome di primo piano vediamo Daniele Lacorte domenica sarai protagonista insieme al tuo libro di un evento speciale a Cuneo all'interno di una rassegna molto ampia è così? Sì è scrittori in città che è giunta alla sua diciassettesima edizione è una manifestazione a largo respiro perché è una manifestazione internazionale sono non soddisfatto di più è quasi emozionante pensare di poter essere tra tantissimi scrittori di fama internazionale ecco daremo vita ad un dibattito domenica pomeriggio ecco non sarà appunto solo la semplice presentazione del libro ma un dibattito sul tema con due scrittori a confronto sì verrà messa a confronto la casa di Geppe cioè il mio libro che tratta di una di una casa modesta tratta di un di un ambiente che definirei all'insegno della malora una casa di un contadino un microcosmo che dà vita ad una serie di iniziative che porteranno sulla strada della resistenza dall'altra parte ci sarà il professor Giovanni De Luna che ha scritto La resistenza perfetta un libro che è ambientato in un castello ecco la differenza è la casa il castello il castello vede la prevalenza di membri componenti diciamo l'area resistenziale piemontese vicino alla monarchia ma in questo castello sono ospitati anche altri altri partigiani altri con ideologie diverse da quella monarchica dal repubblicano al comunista ecco due realtà diverse che si svolgono più o meno nello stesso territorio certo De Luna è sicuramente uno degli storici importanti del nostro paese è docente all'università di Torino insomma io non sono uno storico sono un appassionato di storia uno che cerca più che altro di tenere vivo il ricordo di quei martiri il ricordo della libertà il ricordo di quella lotta di liberazione che ha visto tanti giovani cadere sotto il fuoco nazifascista giovedì alle 17.45 nella sala consigliare del palazzo cremlino di piazza Dante ad Imperio il professor Silvio Zaghi presenterà il nuovo libro del dottor Franco Colizzi psichiatra e psicoterapeuta ostonese l'aggiustatore di destini il libro che si colloca a metà strada fra un thriller e un'indagine psicologica gli attori Simone Gandolfo e Pia Orsini leggeranno alcuni brani tratti dal libro la giornata organizzata dall'AIFO prevede anche al mattino un incontro con il dottor Colizzi con gli studenti dell'istituto Ruffini di Imperia giovedì e venerdì il forte dell'annunziata di 20 miglia ospiterà la delegazione italiana della convenzione delle Alpi che presenterà un workshop sulla rete per le montagne del Mediterraneo spunti e progetti comuni per lo sviluppo sostenibile delle aree montuose nella regione mediterranea all'evento parteciperanno il sindaco della città di confine Enrico Ioculano e il vice sindaco Silvia Sciandra l'evento è finalizzato alla promozione di una road map per le montagne del Mediterraneo alla condivisione di esperienze e buone pratiche di cooperazione montana transfrontaliera il primo appuntamento si è svolto il 4 settembre all'Expo di Milano esiterà a dicembre una giornata dedicata a tutte le associazioni in Liguria organizzate dalla regione Liguria e dal forum del terzo settore l'annuncio è stato dato al termine dell'incontro svolto in regione tra il presidente Giovanni Toti la vicepresidente assessora alle politiche sociosanitarie Sonia Viale e i coordinatori del forum Ligure il forum del terzo settore in Liguria aggrega 29 organizzazioni 280 cooperative sociali con circa 7.000 dipendenti 2.750 organizzazioni di volontariato con oltre 20.000 volontari 4.600 circoli e società di promozione sociale e sportiva con circa 350.000 soci e venerdì pomeriggio alle 17 al museo civico di palazzo Borea Dolmo a Sanremo si svolgerà la presentazione del libro Tedeschi e Riviera la Sanremo di Federico Terzo tra cure climatiche mondanità e religiosità di Alberto Guglielmo e Manzoni nel corso della conferenza verranno proiettate fotografie di Sanremo e di Berlino risalenti alla fine dell'Ottocento nonché immagini di Federico Terzo in vari luoghi della città dei fiori bene ora ci occupiamo degli appuntamenti di Riviera e Venti poi vedremo i cantieri sull'autostrada dei fiori e il quadrometeo e il quadrometeo e il quadrometeo questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona con fine di Stato da lunedì 9 a domenica 15 novembre direzione Francia carreggiata nord tra Imperia Est e Imperia Ovest e cambio di carreggiata per rifacimento della pavimentazione fino a venerdì anche notturno tra Arma di Taggia e Sanremo cambio di carreggiata per rifacimento Dreno Galleria a Moretti da lunedì a domenica anche notturno in direzione Genova carreggiata sud tra Sanremo e Arma di Taggia carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta da lunedì a domenica anche notturno tra Imperia Ovest e Imperia Est carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta da lunedì a venerdì anche notturno Nell'ambito dei lavori programmati per l'adeguamento sismico del viadotto Oliveto 2 sull'autostrada dei Fiori è chiusa la rampa di entrata dello svincolo di Imperia Est in direzione Francia per i veicoli diretti a 20 miglia la chiusura permarrà salvo eventuali rinvii per il maltempo fino alle 18 di sabato 19 novembre Il quadrometeo è elaborato come sempre da Arpa al meteo di Guglia quindi vediamo le previsioni per domani mercoledì 11 novembre nessuna variazione di rilievo con ancora nuvole e addensamenti costieri fino alle ore centrali su gran parte della regione ad eccezione dell'imperiesi dove avremo tempo più soleggiato nel corso del pomeriggio non si escludono parziali schiarite umidità su valori medio-alti venti ancora deboli in prevalente regime di brezza il mare da poco mosso a quasi calmo dopo domani giovedì 12 novembre campo anticiclonico associato a ristagno umidità ai bassi livelli e condizioni di nuvolosità variabile associata ad addensamenti marittimi costieri e locali foschie in diradamento nelle ore più calde velature in parziale aumento nel pomeriggio umidità su valori medio-alti venti deboli variabili mare quasi calmo bene è tutto grazie come sempre per averci seguito ci sentiamo alle prossime edizioni buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.